E' un momento emozionante. Tutto bene a casa, la mamma, papà, tutti i nostri? 24 anni, quarto anno della facoltà di medicina e chirurgia. Ho sbagliato, si hai ragione anche tu, sono fratello scemo io dei tuoi. Perché i numeri romani fregano tutti. Sì, no, ma fin lì dovrei arrivarci, però. Universale di Perugia, quindi sei anche di... no, no, sei di dove sei, fratello? Sono, eh, come mai, non sai dove sono? No, ero già uscito. Sono di città di Castello, in provincia di Perugia. Ah, quindi sei rimasto lì. Sì, sono rimasto lì, tu sei andato. Qualcuno doveva pensare a casa. Eh sì, lo so. Va bene. E niente, vado a vedere cosa ti ho insegnato, le cose che hai imparato. Vediamo, vediamo se ho imparato. Sei pronto? Sì. Bocca al lupo anche per te, con la prima parola, parte il cronometro. Perfetto. Perché abbiamo due occhi, due orecchie e soltanto una bocca? Partiamo da un punto chiave. Dove sono posti i nostri occhi? I nostri occhi sono posti di fronte. Guardano la stessa parte di spazio, ma da due angolazioni differenti. Ma allora non sarebbe stato meglio soltanto un occhio? Se non altro aver risparmiato sulle lenti dei miei occhiali. Ma in realtà queste immagini che si formano in bidimensionale a livello delle retine sono delle immagini leggermente differenti. E dal confronto a livello centrale ricaviamo una terza dimensione, la profondità. Allora vediamo in natura. Ci sono degli animali che hanno gli occhi posti di fronte? Sì, c'è il lupo, c'è il leone. E infatti il lupo e il leone necessitano di sapere dove è posizionato un animale, una preda, per poterla prendere nello spazio. Mentre altri animali hanno gli occhi posti di lato, lateralmente, in questa maniera. Non guardano la stessa parte di spazio, non se lo possono permettere, perché vogliono un campo visivo ampio. Vogliono vedere se qualcuno sta arrivando per poter scappare. E quindi, chiaramente, questi animali sono, ad esempio, la gazzella, oppure la pecora, le prede del lupo e del leone, ad esempio. Ma io dico, in realtà, è una necessità avere due occhi. Non soltanto il lusso. Perché è una necessità? Perché a livello delle due retine c'è un'aria dove non ci sono recettori, dove emergono i nervi ottici. Ma vi siete mai accorti di non vedere una parte di spazio? La risposta è no. Perché? Perché queste due immagini, queste due immagini bidimensionali a livello centrale, si fondono. Il buco scompare. Perfetto. Abbiamo capito perché abbiamo due occhi. Ma perché abbiamo due orecchie? Io direi meglio due membrane timpaniche. Vediamo, innanzitutto, dove sono poste. Una da un lato e l'altra dall'altro. Allora, questo serve, come prima, per poter localizzare da dove proviene uno stimolo, un suono nello spazio. Allora, se il suono proverrà da destra, la membrana di destra vibrerà con maggiore intensità rispetto a quella di sinistra. E vibrerà prima di quella di sinistra. E il confronto di questa informazione a livello centrale farà nascere la terza dimensione. Dove è localizzato questo oggetto? Perfetto. Ma allora, perché abbiamo soltanto una bocca? Eh, forse perché dobbiamo osservare, ascoltare, il doppio di quanto parliamo. Applausi Grazie.